finalmente siamo arrivati e stiamo facendo un sentiero nel parco dei caengorms come vi dicevo prima è proprio uno dei miei posti del cuore anche per luca anche lui adora questo posto e dov'è luca e stiamo facendo questo sentiero che dovrebbe portarci su in soli quattro chilometri dovrebbe portarci su e vedere dei bei panorami ancora non stiamo salendo ma dovremmo iniziare a breve la giornata è strepitosa oggi ci sono 18 gradi a settembre e quindi non è scontato che ci sia bel tempo però qualunque sia il clima alla fine la scozia è bella anche per quello è sempre diverso il silenzio del bosco è fantastico l'odore è buonissimo si sente proprio odore di pini mancano solo questi benedetti red squirrel esatto dicono che si vedono anche i red squirrel gli scoiattoli rossi in questo bosco ma non ne abbiamo ancora visti guardate guardate il paesaggio eccoci qua il cielo è bellissimo oggi e dopo una piacevole camminata nel bosco vero piacevole siamo arrivati qui questo è il panorama non vi sto a dire non vi sto a dire il nome del sentiero perché davvero impronunciabile però vi lascerò tutto quanto nella cartina come faccio sempre c'è chi me l'ha già chiesto pini a perdita d'occhio veramente tantissimi alberi a perdita d'occhio e tre laghetti bellissimi guardate che spettacolo e che silenzio buongiorno oggi siamo ancora nei caingos come avete visto dal video precedente anzi dalle clip precedenti perché probabilmente sarà un unico video siamo a grand ton on grand town on space se non sbaglio si chiama così e oggi ci siamo presi una giornata di totale e assoluto relax che vuol dire ci siamo svegliati con calma abbiamo fatto l'inglish breakfast in albergo scusa la full breakfast si chiama scottish breakfast e poi siamo partiti a piedi dall'albergo che stiamo facendo una passeggiata per vedere alcuni view point qua c'è luca ciao qui c'è il piume fiumiciatto laggiù c'è il paese da cui arriviamo noi e qui inizia la camminata adesso ci facciamo cinque chilometri in questo bosco andiamo a vedere qualche bel paesaggio e vi portiamo con noi dopo tutte le ore che abbiamo camminato anzi guidato che luca ha guidato nei giorni precedenti sarà proprio bello fare una passeggiata tranquillissima e poi torniamo ci mangiamo qualcosa per pranzo e poi al pomeriggio usciamo di nuovo magari torniamo a evimor che è il mio posto preferito cosa vedava way si è lungo 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 segue tutto il fiume tipo venti e passa miglia ma adesso andiamo siamo in una specie di canyon e ci sta piacendo un sacco questo giro vero mamma mia la scoccia vero che ci sta piacendo un sacco eccezionale dal galway che era strepitoso anche quello all'isola di arran tutta la zona ovest di glenco che è il nostro posto preferito esatto qui è il nostro posto preferito tant'è che stiamo guardando le casettine in vendita i bungalow i caravan tutto stiamo guardando come posto delle vacanze eccezionale proprio ti rigenera i cuori dei boschi con un silenzio abbiamo già in mente di tornarci anche l'inverno per vedere un po com'è stato l'anno con la neve di neve ci sono qua 45 giorni di neve l'anno fantastico particolare questo è nord si visto bellissimo cos'è che dicevi l'unico è l'unico difetto che parlano tanto dei red squirrel e non ci sono gli scogliattoli rossi ma non ne abbiamo ancora visti ecco abbiamo trovato il nostro punto panoramico e io ho anche visto uno scogliattolo rosso che però è velocissimo è scappato subito qualcuno mi lascia indietro poi non li vede è rosso è un po più piccolo no è un po più piccolo ed è molto molto rosso e scappa velocissimo è più prudente del grigio è più paccioccone siamo arrivati nel centro della cittadina volevamo farvi vedere una cittadina del 1700 ed è stata pianificata proprio come le cittadine dell'epoca quindi c'è questa grande piazza al centro con tutti gli edifici in pietra intorno molto particolare molto caratteristica rispetto ad evymor è molto più interessante vero detto ha più carattere più carattere nel senso che è più distintiva sì sì ha più carattere senti proprio l'odore delle epoche passate però a me piace di più evymor che tra l'altro non vi ci abbiamo neanche portato perché non è niente di che ma a me piace proprio perché c'è l'applestore non c'è l'applestore c'è l'applestore ho venduto tutte le mele guardate c'è un tizio con la corna musa e il kilt dove che cosa sta facendo dove sta andando boh chissà comunque oggi davano pioggia quindi noi non abbiamo fatto chissà che camminata e invece il cielo è così vedremo se pioverà dopo ecco lì li abbiamo trovati ce n'è uno proprio lì sopra poi ce ne sono altri guardate il musino di questo ci ha visto lo vedete che spunta dopo un breve sosta a casa di un paio d'ore anzi in albergo ci siamo mangiati un'insalatissima vogliamo stare leggeri perché abbiamo fatto l'english breakfast e ceniamo di nuovo presto stasera ormai ci abbiamo preso gusto a cenare alle 6 noi siamo venuti a Tomintoul che è un paesino veramente piccolissimo sull'altopiano che va praticamente da dove eravamo noi fino all'altro lato in pratica si fa tutto il parco questa strada e sull'altopiano c'è questo paesino di montagna e fa un freddo ma un freddo quanti gradi c'erano? 16 che di solito con 16 gradi io non ho freddo ma è il vento è un vento freddissimo e adesso vi faccio vedere intorno queste sono le montagne su cui si scia d'inverno e questo è Tomintoul c'è The Island Market con gli Scottish Gifts il caffè e qui c'è The Whiskey Castle vendono il whisky ah ma va là il più alto village nelle islands ah vedi ecco perché fa così freddo siamo ben 345 metri sul livello del mare e il flash è più alto il flash è più alto è un 400 flash sì però devo dire che l'architettura è particolarmente bella per essere un paesino delle islands questa è la piazzetta ci sono tanti negozi carini con souvenir altre casette e Luca doveva a vedere il monumento buongiorno qui dal parco nazionale dei Gagorms oggi stiamo facendo la snow road la strada della neve che ci porta su 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 vi faccio vedere rapidamente le nuvole si stanno alzando e il paesaggio è bellissimo guardate le nuvole basse intorno agli alberi ha piovuto tutta notte quindi la strada è tutta bagnata ancora la neveolina si sta alzando proprio adesso è ufficialmente arrivato l'autunno è ufficialmente arrivato l'autunno sì ci sono 9 gradi e speriamo che si alzi un pochino per la camminata e oggi danno un'altra bella giornata quindi dovremo essere fortunati con le precipitazioni anche oggi non abbiamo ancora beccato proprio acqua mentre facevamo camminate al massimo un po' di drizzol ma poi ho smesso e comunque no bellissimo sono proprio contenta oggi la camminata promette molto bene l'ho trovata su un sito di una ragazza ossessionata con la Scozia ve lo consiglio Ilaria Battaini credo si chiami c'ha il suo blog e ha messo un sacco di articoli interessantissimi sulla Scozia grandi Ilaria anche su zone meno frequentate meno famose quindi ve lo consiglio se dovete pianificare un viaggio in Scozia volevo farvi vedere l'impianto di risalita perché questo è uno dei pochissimi impianti sciistici in tutto il Regno Unito come partono le piste queste sarebbero le piste cioè queste così in più c'è anche l'altro lato che sono più o meno simili ovvero tutta questa collina con le impianti forse ti diverti non è proprio sci non è come andare a sciare però come dire ti diverti è una discesa innevata magari con la neve programmata no dici di no ci sono i cannoni ci sono il panorama comunque è molto bello guardate la strada come scende giù nella valle con tutte le montagne intorno senza neanche un albero perché siamo a 600 metri che praticamente per la Scozia è già tundra ecco il paesaggio ci siamo fermati un attimo a fare due foto proprio bellissimo poi qui c'è una scultura che ricorda i cerchi di pietre che ce ne tanti in Scozia guardate che paesaggi ragazzi ma è bellissimo tra l'altro questa strada da fare con la neve è pericolosissima è tutto a salite ripidissime curve ragazzi siete pronti vi faccio vedere un altro paesaggio meraviglioso questo è il Glen Louie olè bellissimo non è vero guardate che spettacolo c'è l'acqua che è trasparentissima e poi c'è proprio tutta la valle in fondo con le montagne i pini il fiume bellissimo che pace siamo arrivati alla fine del percorso guardate che bello è tutto bosco bellissimo noi siamo arrivati da là in fondo abbiamo fatto tipo 5 chilometri e guardate questa casa quanto è bella tutta sbarrata con le assi e le finestre in un contesto meraviglioso che peccato guardate la casa è lì e questo è il panorama che c'ha che tristezza vedere un posto così bello in disuso sì grazie pausa a te vista fiume grazie è molto gentile sul tronco diciamo che con questa vista ci fossero 40 gradi fare anche il bagno magari no non i 40 gradi magari il bagno guardate come è limpida si vede sotto stiamo facendo una passeggiata a bremar guardate che bello questo albergo tutto in stile proprio island originali adesso stiamo facendo una bella passeggiata cerchiamo qualche souvenir magari un caffè guardate che bellini questi cottage tipici tutti in pietra qua comunque l'architettura è questa tutto pietre pietre pietroni ammassate il fiume che passa proprio al centro del villaggio con le cascatelle ricorda un po' i nostri paesini montani però l'architettura è troppo diversa abbiamo fatto il giro abbiamo guardato qualche souvenir ma alla fine non abbiamo preso niente e ora andiamo alla prossima destinazione buonasera siamo arrivati alla nostra prossima destinazione ovvero il posto dove dormiremo questa notte ovvero Tarland alloggiamo città famosa per i Tarly non è vero alloggiamo in un paese in un albergo che è di 300 anni tipo a 300 anni una locanda una locanda quindi è un po' malmessa ma è proprio questo è il bello questo invece è il paesino olè adesso mi faccio investire anche qui le case sono tutte in pietra quello è il nostro albergo quello là in fondo adesso stiamo facendo dov'è la mappa? Luca ce l'ha in tasca la mappa stiamo facendo un giro per vedere qualcosa di molto speciale cioè abbiamo trovato una mappa adesso andremo a vedere qualcosa vi portiamo con noi siamo lungo il sentiero l'abbiamo perso poi ritrovato sta tramontando il sole eccoci qua guardate il cielo i scozi avete mai visto un cielo così? di sicuro non nei nostri video e siamo lungo i campi bellissimo a Luca piace un sacco è stupendo tra l'altro si capisce che siamo fuori dai cairgoms perché coltivano esatto non abbiamo ancora trovato il cerchio di pietre vecchio di 4.000 anni andiamo andiamo non spoglio ma sarà di là spoglio che corsa eccole volevo arrivare qui ora al tramonto ci siamo le stones eccole 4.000 anni di stones e ci siamo che bello mamma mia bellissimo anche il paesaggio è stupendo guardate quella casetta comunque questo posto ha qualcosa di magico guardate il cielo bellissimo anche quest'ora grazie a tutti grazie a tutti